ciao cari ragazzi vi faccio vedere che ho inserito una retrocamera per l'asteroid parrot sperando sperando che non mi dia problemi per quanto riguarda l'assorbimento di batteria ecco qua vi faccio vedere io inserisco la retromarcia e in automatico parte la retrocamera questa è una retrocamera acquistata su internet per un alfa 159 il caricamento vi faccio vedere è molto veloce come inserisco la retromarcia un paio di secondi al massimo e subito visualizza ciao a tutti ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi